17.14 Radio DJ, siamo partiti come al solito col piede sbagliato, perché di punti in bianco Diego si è rivolto a me con un brutto tono, lui si ha subito detto no, eh sì, perché secondo me sì. Ascolta, fatti servire. Se ho avuto un brutto tono ti chiedo scusa. No, adesso aspetta. Te lo dico già. Se non ho avuto un brutto tono. Ti chiede scusa Pina? Sì. Se non sì. Eh, se non sì. Se ho avuto un brutto tono ti chiedo scusa. Sì, ok. Dopodiché però, lo chiede Pina? Ok, siamo calmi, che devo spiegare. È stato aperto un sondaggio su Pinocchio DJ. Diego, era un brutto tono quello di Diego? Il 66% degli ascoltatori ha detto sì. Il 34% no. No, per ora. Che comunque non è uno stravincere, eh? Beh no, però vuol dire che comunque c'è la maggioranza percepito nella voce. Adesso con lappa alla mano, cioè con, scusate, sì, con il sondaggio alla mano, vi diamo modo di risentirlo e rivotare, ok? Quindi potete votare sì o no. No, perché è giusto, perché sulla memoria così. Eh vabbè, però. No, perché magari vinci. No, non vince. Però sentiamolo. Però scusa, magari ci siamo sbagliati noi e allora io ti chiedo scusa. sentiamo. Prima che iniziamo, mi potresti dare la mia sedia, Pina? Allora, lo facevo più brutto. Anch'io. Lo facevo più brutto, sinceramente. Tu pensi che non volevi dire la mia sedia, Pina? Cioè, allora, non è proprio dolci, non è dolce, non è un tono dolce, non è così acido. Porco. Eh, però bisognerebbe allargare da prima, perché eh... Beh, eravamo spensierati e tu hai voluto puntualizzare. Adesso lui è così, prima non lo volevi sentire, adesso vuoi sentire così, sei pieno di glitter, cosa diavolo, dove sei stato? No, io non ce l'ho, Pina. Vieno, sei murata di... Ma dove? Non lo so. Ma io, io il glitter. Sentiamo. E oggi tocca recuperare un po' di gossip, panca. Sì, sì, sì. Scusami. Prima che iniziamo, mi potresti dare la mia sedia, Pina? Così è brutto. Addirittura. Sì, perché scusami, non mi ricordo neanche come ti chiami. Sì, sì, sì. Diego, come mai sei sempre più pieno di glitter? Che cosa gli sta succedendo? Eh, la verità. Sì, perché quando dico la verità mi riempio di... No. Ma no, lo direi. Cos'è che hai toccato? Quando dico la verità mi riempio di glitter. Ragazzi, è tutto pieno di glitter. Eh, non lo so. Allora, scrivo. Allora, scusate, era un brutto tono quello di Diego. In questo momento è 30% sì, 70% no. No. Lo facciamo sentire l'ultima volta, app alla mano, quindi aprite il sondaggio su Pinocchio DJ, ve lo facciamo sentire l'ultima volta, si vota e si chiude la questione, poi si va con i secondi. Aspetta, aspetta, intanto scrivono, si capisce che il retrotono è un po' da ciglio alzato. Eh, sopracciglio alzato, no, no, però si capisce, sì. Vediamo. No, tono aggressivo, non nessun tono, sì, non era un brutto tono. Bruttissimo tono. Eh, la Pina lo tratta sempre male. Sarà facile lei di carattere. Poi no, poi quell'altra là. Ma eh, figurati. Posso risentirlo? Dai. Mercoledì, che era ieri, abbiamo fatto le urgenze. E oggi tocca recuperare un po' di gossip anche, eh? Sì. Scusami, prima che iniziamo, mi potresti dare la mia sedia, Pina? No, era un brutto tono, dai. Per me anche. Sennò io guarda, ti chiedo scusa. Le accetto. E poi vai a struccare. No, sì. Perché in realtà la tua sedia, quella che così tu era finita dietro, e tu sei seduta sulla, capito? Comunque. Questo era tra i più belli interventi radiofonici. Sì. Ma adesso questa roba del glitter è vera o non è vera? Te lo giuro. Allora, da qua non si vede. Vieni, vieni qua. Ma è una forma allergica? Ma che è? Ma no, cos'è? Una forma allergica che la pelle produce il glitter che è dentro. Guarda, Diego, guarda. È vero, è vero. Ma pieno, tutta la barba. La barba? È raga. Vabbè, ma non è che fa male, eh? Chiamiamolo struccatore. Dai, eh. Dai, ti lavi la fa... No, perché non... Ma perché mi devo laverla? Ma lasciagliela lì, che questo non è che fa reazione, eh? Ho provato il tuo maglione. Ma cosa ti pare che è pieno di glitter? Ma non c'è il glitter in questo? Ah, se tu non sei pieno di glitter da qualche parte. Da qualche parte sì, ma non il maglione. Chiudiamo e poi tra poco solo gossip.